La Procura di Bari ha chiesto 27 condanne, appena comprese tra i 18 e i 4 anni di reclusione per altrettanti imputati accusati a vario titolo di associazione mafiosa, scambio elettorale politico mafioso, coercizione elettorale e corruzione. Stando alle indagini della DDA di Bari, gli imputati, quasi tutti affiliati al clan di Cosola, avrebbero tentato di condizionare l'esito delle ultime elezioni regionali in Puglia del maggio 2015, procurando voti in cambio di denaro a Natale Mariella, candidato poi non eletto con la lista popolari a sostegno di Michele Emiliano, in particolare in alcuni comuni della provincia di Bari, alcuni affiliati all'organizzazione criminale, tra i quali Michele Di Cosola, figlio del boss pentito Antonio Di Cosola, nelle settimane precedenti le elezioni regionali avrebbero fermato persone per strada invitandole a votare Mariella, che non è imputato in questo processo, mediante l'esercizio della forza di intimidazione del clan e con minacce velate, così impedendo il libero esercizio del diritto di voto. Il PM della DDA, Federico Perrone Capano, ha chiesto condanne fino a 18 anni di reclusione per gli affiliati al clan e la condanna a 12 anni per Armando Giove, ritenuto il referente di Mariella, accusato di aver accettato la promessa del clan di procurare voti, offrendo in cambio 70.000 euro. Giove risponde di concorso esterno in associazione mafiosa, perché mediante l'offerta di denaro e posti di lavoro avrebbe fornito un contributo concreto e consapevole al rafforzamento dell'organizzazione criminale. Il processo si sta celebrando con il rito abbreviato dinanzi al GUP del Tribunale di Bari Alessandra Pigliego.